Buon pomeriggio amici, oggi è il primo maggio 2020 che sarebbe anche la festa dei lavoratori, però purtroppo sappiamo benissimo la situazione mondiale come stiamo andando avanti, quindi rimaniamo sempre a casa il più possibile, facciamoci la nostra spesa una volta sola vi consiglio, senza saltare sul mercato, basta anche così stiamo a casa e continuiamo nella nostra vita tranquilli in attesa che miglioreranno sicuramente le cose perché adesso quando si alzerà la temperatura i virus moriranno molto più velocemente rispetto adesso che la temperatura è più bassa, non sono purtroppo un medico quindi ho soltanto letto delle cose della durata di un virus quindi non voglio adesso entrare in merito a queste cose perché io il video che sto facendo è tutta un'altra cosa, degli archivi ovviamente che ho sbloccato quindi se io adesso vado qua dentro negli archivi ovviamente tutto quello che io ho sbloccato ne ho sbloccati 58 su 75 andiamo a prendere l'ultimo che ho sbloccato guardate ti dice scusate ti dice anche la percentuale dei giocatori che sono riusciti a sbloccarla il 2% però da notare questo se te la sblocchi con due viaggi al giorno ci metti un mesetto per farle sono 33 viaggi eccezionali però se te la sblocchi come ho fatto io di vera guida proprio nel limite umano io mi sono sparato 27 29 ore di guida per farlo in meno di due giorni andiamo a vedere anche delle cose interessanti perché molti non gliene frega niente di queste sono veramente delle sfide quindi se io vado adesso dentro adesso vi farò vedere un po il tutto gli archivi a mente che ho sbloccato sono 58 su 75 però in realtà se andiamo a vedere dentro adesso scopri di più quando lui dice ci dovrebbe essere ecco mostra le statistiche globali no vedete ecco qua se noi andiamo a vedere dentro ecco qua ti dà anche la percentuale che per arrivare ancora di più al massimo che io poi ho lasciato perdere utilizza per esempio un parcheggio automatico dopo io non l'ho più fatto perché automaticamente ho parato a mettere il camion in ribalta queste sono le percentuali in poche parole cosa succede che anche se l'ho sbloccato lui continua a registrare fino a che arriva al 100% vedete perché il gioco vuole così vuole che vai avanti a questi sono sbloccati però poi continua continua lo stesso perché infatti quando sei nel gioco sulla sinistra quando tu hai sbloccato hai fatto lo stesso viaggio poi esce fuori al che vuol dire hai tutto sbloccato e ti registra una percentuale ancora in più perché sei stato soltanto a fare un trasporto in quella in quella zona io sto scendendo non sbloccati 58 adesso nel prossimo video praticamente io sbloccherò la sono dietro mi manca solo una degli aeroporti della francia quindi torniamo un attimo indietro perché voglio anche farvi vedere quello come sono messo adesso sugli archivi ovviamente che sono proprio delle sfide non mica leggere pesanti quando riuscirò a esplorare la mappa mi sblocca direttamente questo poi vedrò anche in questo qui la percentuale mi manca il marinaio vedete comunque voi potete leggere adesso il check in che sono dietro check out che ho iniziato ieri ho capito come farla me ne manca soltanto mi manca solo un aeroporto purtroppo questa mattina e io sono andato a toloso adesso un fermo lì ero convinto che ero già andato è però ho detto facciamolo sono soltanto 1300 chilometri perché gli altri erano molto i più lunghi e quindi ho dovuto mollare perché lo stanco sono fatto altre sei ore di guida se poi vedete tutte le ore ce ne sono mazzate però adesso mi sono un attimo ripreso ho ancora energia ecco le ultime sfide che mi mancano una due tre quattro che sembra che poi ti raggiunge anche qualcosa in più ogni tanto 5 6 7 8 9 10 11 12 vedi anche questa quale calcestruzzo deve essere molto bella 13 14 15 16 17 me ne mancano 17 ero sbloccate tutte eccole qua il minatore ad esempio vedete ti mette la data l'ora l'ho sbloccato il 28 aprile vive nucleare il 29 aprile proprio di questo del mese scorso andiamo a vedere proprio le ultime più grande e meglio anche questo qua autista eccezionale 30 aprile guardate l'altra sono di cinque anni fa e roba vecchia se andiamo al su 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 sbloccato il 13 agosto 2015 a luna di notte luna e 33 ecco questi qua sono tutti gli archivi a mente che sono proprio delle delle gare quando poi tu arrivi all'ultimo cioè sono ancora più sempre più pesanti più pesanti e sempre di più ok joker game chiude con questo video degli archivi a mente e continuerò a finirmi questa storia così almeno qualcosa da fare perché ormai sono diventato livello alto i soldi ci sono gli autistici ci sono non tutti non tutti perché la mia cosa è espandermi quindi vorrei quando arriva la penisola iberica impianterò dei nuovi magazzini però avevo anche un'idea una mezza idea di assumere autisti e poi spostarli ma per fare soldi ma però lasciato perdere preferisco adesso stavolta una cosa con calma un gradino alla volta tanto i soldi entrano sempre quindi una volta che ti sei ingrandito piano piano ti puoi fare tranquillamente il prestito non dovete avere paura dice non riesco a pagare non è vero perché tu non giocando lui i soldi non se li prende quindi giocando e se riprende basta solo fare dei viaggi piano 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 uno ci arriva e non sto dicendo di essere della delle persone accanite come faccio magari io perché vado lì magari forse anche come sfogo e do il massimo tanto per immagermi in qualcosa di diverso per non non sentire la televisione le brutte notizie che danno quotidianamente ok allora questo video si conclude qui joker game vi saluta al prossimo video adesso questo qui non è una live quindi lo devo per forza caricare normalmente e lo vedrete a breve di nuovo ciao a tutti grazie amici per la visione così vi ho fatto capire che cosa sono queste cose che non è uno scherzo anche andare a cercare i carichi non è per nulla facile di nuovo ciao a tutti buon primo maggio giusto buon primo maggio al prossimo video ciao a tutti grazie joker chiude ciao a tutti grazie a tutti dictator K Grazie.